Siamo al Defight, siamo con Alex Avogadro e Ivan Mapelli, Free Combat, grande vittoria per Alex. Allora, com'è andato il match? È stato un match tirato fino alla fine perché comunque si faceva fatica a entrare, entrava lui, entravo io e facevo fatica a entrare col colpo pulito e potente fino a che ho trovato il bersaglio quando l'ho preso e ho fatto danno. Senti, come ti sei preparato per questo match? Era un match importante, un'atleta molto forte e ostico, ben allenato e la serata al Defight è una serata importante. La Boss Madonna organizza sempre qui a Madonna un grande evento, grandi match, grandi atleti. Sì, ringrazio perché mi chiamano a partecipare, comunque è un gala importante. Gli atleti che si trovano sono tutti atleti a livello internazionale e si fanno dei match duri e belli. Con Isham ci siamo preparati, abbiamo studiato un po' sul possibile cambiare guardia e fare un po' di eventuali tattiche. Abbiamo provato e su, ho dato il risultato. Allora, Iban, tu credevi nella vittoria del tuo atleta, ci hai creduto fino alla fine e così è stato. Vittoria per K.O., come avete creato questa vittoria? Grazie ad Alex che comunque ha studiato l'avversario, è riuscito a trovare lo spiraglio, visto che usciva sempre e non si faceva prendere in uscita. L'ha atteso, quando era nato un po' più stanco la terza ripresa e il soccopo vincente al kick che ha dormitato liscia. Allora, grande vittoria per Alex Avogadro qui al Defight. Ringraziamo Iban Mapelli, Free Combat Academy, numeri uno. Ok.